Dopo il successone del Redmi Note 7, arriva lui, ovvero Redmi Note 8. Cosa cambia quest'anno? Beh, lo andiamo a voltare e troviamo 4 fotocamere messe a semaforo, di cui la principale a 48 megapixel. E allora, iniziamo subito a scoprire il nuovo gioiellino di Redmi Xiaomi, ma grazie prima di tutto agli amici di Xiaomi Today. Ed eccoci qua ragazzi con il nuovo Redmi Note 8. Confezione di vendita, l'abbiamo già vista nell'unboxing, esiste anche la versione Note 8 Pro, ma questo è un altro discorso, è un altro telefono. Questo è il gioiellino di fascia media, 190 grammi, 158.3, 75.3, 8.4 mm di spessore, display da 6.3 pollici, IPS, Full HD+, 13 megapixel di fotocamera frontale, posteriormente la vera novità. Quattro fotocamere messe a semaforo, 48 il sensore principale, 8 megapixel grandangolare, 2 più 2, profondità di campo e macro. Andiamo a vedere anche come ci sia il loghetto Redmi nell'angolino e le varie certificazioni. Il vetro posteriore, beh, non è una vera innovazione, mi ricorda tanto quello del Redmi Note 7, quindi a livello di estetica non è un telefono che mi ha fatto gridare, wow che bellezza. Tuttavia abbiamo la dark mode, abbiamo un po' la stessa personalizzazione che troviamo su tutti gli Xiaomi Redmi, mi state chiedendo sicuramente a che versione di Android siamo arrivati, info di sistema e siamo ancora ad Android Pie, ahimè non siamo ancora ad Android 10, non abbiamo ancora la MIUI 11, arriverà con calma ragazzi, arriverà. Snapdragon 665 a bordo con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, esiste anche la versione con una maggiore memoria. Non abbiamo l'NFC ragazzi, ma in alto troviamo la porta ad infrarossi, troviamo il secondo microfono, il carrellino per la doppia SIM e l'espansione di memoria, la porta di ricarica Type-C e addirittura il jack per inserire le nostre cuffie, alto parlante, mono dall'altro lato, bilanciere, accensione blocco sblocco. Un telefonino che non grida all'innovazione, andiamo un po' a vedere come si comporta nella navigazione, nell'apertura di Facebook, andiamo anche per Parcondicio ad aprire la pagina di Instagram, vedete come sia non proprio fulminio, a volte si inceppa, si incarta proprio sulle cose più facili e necessita di un refresh, di un caricamento. Una volta che ha caricato tuttavia è bello veloce, e quindi un'interfaccia magari poco ottimizzata, vi faccio vedere anche Asphalt 8 e vediamo in quanto tempo lo gira, vedete anche qua, lo ha girato lo schermo con un paio di secondi di ritardo. Oltretutto poi vi faccio vedere insieme all'accelerazione grafica anche i classici punteggi di Antutu Benchmark e GIG Bench 5. Direi che si può iniziare con la gara, ecco qui, si inizia, ecco, via, avanti, avanti, aspettiamo, contiamo i secondi che passano per aprire Asphalt con questo Snapdragon 665. Vedete, lo ha aperto in tempi relativamente brevi, qualche piccolo laghettino, eccolo, sì, lo percepiamo, ma poco poco, quindi ulteriore conferma che non è un telefono brillantissimo e velocissimo. Secondo me il Redmi Note 7 bene o male gira allo stesso modo e questo è un telefono di una generazione successiva. Cerchiamo di uscire dalla gara in modo tale che possiamo anche vedere in quanto tempo, vedete, eccolo, un altro frizz e adesso è ripartito. Vi faccio vedere il multitasking, disposto così in verticale con varie scorciatoie in alto, la X ci permetterà di chiudere tutto. Il menu, beh, il classico menu che troviamo sull'interfaccia Xiaomi Redmi permette un po' di clonare le applicazioni, quindi possiamo clonare due account, possiamo andare a vedere lo spazio di archiviazione, disponibili 40 giga su 64 e avere anche un secondo spazio per andare a sdoppiare l'uso del telefono fra privato e lavorativo. Ovviamente si può sbloccare in diversi modi, possiamo andare a sbloccarlo con il volto, quindi mi faccio riconoscere e questo si sblocca, uno sblocco veramente molto molto veloce, oppure semplicemente con l'impronta digitale su questo blocco qua vado a premere, a appoggiare il dito e vedete come si sblocchi sempre. Reparto musicale, andiamo ad aprire il lettore musica e andiamo a sparare al massimo l'audio. Ecco, l'audio mi è piaciuto, non è altissimo, però è ben bilanciato, il suono è equilibrato, quindi suonerie, ricezione sonora, musica in viva voce, mi è piaciuto. Andiamo avanti e parliamo di qualità display. Ok, non è un AMOLED, ok, non è un super display, però questo LCD è piacevole, si legge bene anche in condizioni di luce sfavorevoli, quindi è una goduria per gli occhi. A proposito di batteria, 4000 mAh inserita, ovviamente non removibile, supporta la ricarica rapida fino a 18 W, anche se il caricatore in dotazione spinge fino a 10. Quindi in poco più di due ore è carico e quanto dura, fino a quanto vi porta la batteria, vi faccio vedere screenshot della durata. Ed eccole qua ragazzi, 7 ore e superate le 7 ore di schermo acceso. Solite gesture di casa Redmi e Xiaomi, ovviamente possono essere inseriti anche i tastini qua in basso e si possono scambiare. Il telefono si rianima con un doppio tap, oppure si rianima semplicemente alzandolo da una superficie e questo viene sbloccato immediatamente. Abbiamo anche un piccolo LED di notifica posto nella parte alta, piccolo piccolo bianco che lampeggia. E vi faccio vedere anche questa grigliettina da cui sentiamo l'interlocutore. Ma adesso parliamo anche un po' di multimedialità. Una multimedialità che vede questa tripla fotocamera 48, 8, 2, 2 megapixel, quindi tutte andranno in funzione con questo dual LED flash. Come funzionano? Beh, subito il reparto fotografia. Eccolo qua con un po' di impostazioni. Abbiamo l'intelligenza artificiale che non manca mai, abbiamo l'HDR, abbiamo i settaggi per quanto riguarda l'immagine, quindi full screen oppure 1 a 1, 4 terzi o 16 noni. Nelle impostazioni, beh, troviamo le classiche impostazioni della casa. Quindi non sto a dilungarmi tanto, con la possibilità di andare a utilizzare la fotocamera grandangolare e ci allontaneremo tanto dal raggio d'azione, ci andiamo ad espandere la 1x, quella standard, e poi la fotocamera ravvicinata. Eccola qua, la 2x. Se vogliamo sfruttare il massimo, il 48 megapixel, eccoli qua, 48 megapixel, andiamo a fare foto più pesanti. Modalità ritratto, quindi andiamo a sfocare quello che sta dietro al soggetto, notte, panorama, pro, e poi sull'estrema sinistra abbiamo video, video breve e slow motion. Eccola la selfie cam in funzione anch'essa, con la modalità ritratto, quindi è possibile sfocare quello che sta dietro al nostro bel faccione. Ma come vengono le fotografie con il Redmi Note 8? Beh, iniziamo la carrellata di foto con una bella foto al mattino, al risveglio, con una buona colazione, buoni dettagli. Qua abbiamo una fotocamera standard, con la zoomata, con pochissima luce, quindi quasi tutta artificiale, e modalità notturna in azione. Come potete vedere non fa miracoli, però cambia abbastanza rispetto alla modalità standard, e anche la 48 megapixel, beh, dà un po' di soddisfazioni, ovviamente fa foto molto più pesanti. Anche la selfie cam si comporta piuttosto bene, di giorno fa dei buoni selfie, buono lo sfocato, ovviamente di sera perde un pochino, quindi questi 48 megapixel fanno comodo specialmente di giorno con il soggetto fermo. Ma adesso, per concludere, vado subito a farvi vedere questa, che è il colpo di scena in chiusura della recensione, ovvero la Gcam. Sì ragazzi, perché il nostro Redmi Note 8 supporta la Gcam nativamente, la Google Camera, quindi con la modalità ritratto, con la modalità notturna, con tutte le varie sfaccettature che offre questa nuova interfaccia di Google, e vi assicuro che le foto vengono molto molto bene. Un telefonino quindi che vi può dare molte soddisfazioni, certo non è la novità assoluta, perché sembra un déjà vu, anche sulla parte posteriore non cambia molto rispetto al Redmi Note 7, che tanto ha fatto bene, anzi, parlando di ottimizzazione, qui ancora siamo su un software, secondo me acerbo, c'è qualche laghettino, qualche scattino, avete visto anche voi nella recensione, non è un fulmine di guerra, però rimane sempre un telefono molto bello, molto funzionale, con tante fotocamere, proposto a un prezzo davvero interessante. Certo è che quest'anno lui, il Redmi Note 8, se la deve vedere con lui, ovvero il Realme 5 Pro. Io, posteriormente, secondo me è una battaglia già persa da parte di Redmi Note 8, per me questo abbe cover è veramente bello, anche se purtroppo è in plastica, ma poi, ragazzi, se vorrete, se lascerete scritto un bel commento, vi farò un bel confrontone fra i due. Appassionati! Secondo voi, quanto abbiamo speso? Per portarsi a casa lui, ovvero il Redmi Note 8, servono all'incirca 170 euro, nella versione 64 giga, quindi la versione più bilanciata a livello di qualità e prezzo, lo trovate qua sotto, il link è sotto in descrizione, e allora tiriamo anche un po' le somme. Mi è piaciuto, sì, ma mi era piaciuto anche il Redmi Note 7, l'impressione qual è? È che il Redmi Xiaomi stia perdendo un po' l'originalità, stia perdendo un po' il filo dell'innovazione. Quattro fotocamere, a mio avviso, non bastano per giustificare il successore del Redmi Note 7, personalmente ha perso un po' di appeal questo modello, e oltretutto ci sono quei lagghettini sporadici, quei freeze ogni tanto nel passare fra un'applicazione e un'altra, la tastiera è un po' troppo zanzarosa, il touch non risponde proprio fulmineamente parlando, alcune volte sì, si rallenta, e allora, beh, Best Buy sì, ma non è più il Best Buy in assoluto. Un nome su tutti, Realme 5 Pro, vi invito a guardare la recensione completa, magari fatemi sapere qui sotto, al rettangolo del video, se volete un bel versus. Grazie per l'attenzione, io e il mitico Redmi Note 8 vi salutiamo, un like a palla, mi raccomando, se volete continuare a vedermi, a seguirmi, lasciatemi un messaggio, e seguitemi su tutti i vari social, grazie agli amici di XiaomiToday.it. Ciao!